Amo molto viaggiare e sono incantato, innamorato dei vari borghi antichi, dei centri storici, delle varie città che visito. Ma poi mi ritrovo nella mia Taranto, nella Taranto per la quale ho sempre lottato in 21 anni di attività giornalistica e per la quale sto lottando ora da candidato sindaco e mi imbatto in un degrado assoluto. Ci troviamo qui, dicevo, in città vecchia, presso Arco San Domenico, nei pressi della confraternita della Dolorata e di San Domenico e ci hanno segnalato nei giorni scorsi una copiosa fuoriuscita di liquami che si vedono appunto da queste immagini. Sono venuto qui proprio per verificare e guardate qui c'è appunto un tombino, c'è una parte in buona sostanza dei mattoni che risulta essere come dire staccata, scollegata, c'è un lasco appunto tra i mattoni e il tombino e da qui ovviamente fuoriesce di tutto di più. Lo avete visto dalle immagini e qui a distanza di giorni guardate cosa è rimasto. Questa è l'amministrazione Melucci, questo è il borgo antico che Melucci dice di aver riqualificato, di aver risanato. Evidentemente questa riqualificazione la vede solo nella sua fantasia o peggio ancora nella sua assoluta falsità. Ma non finisce qui, è una zona completamente abbandonata, degradata e penso soprattutto ai bambini, quei poveri bambini che meriterebbero ben altro, che giocano in quest'area e guardate un po' cosa si trova. Si trova purtroppo un topo morto, un topo morto che giace qui da tempo immemorabile. Ora chiaramente il topo morto non risale a novembre quando l'amministrazione Melucci è caduta, ma c'è ovviamente una situazione di sporcizia, di mancanza di igiene, di degrado che è impressionante e che questo porcile, passatemi l'espressione, un porcile non certo determinato dai cittadini ma dallo Stato di decozione, è stato proprio provocato dalla incapacità amministrativa assoluta della giunta dell'amministrazione Melucci-Musillo. Sì, ricordiamolo perché Musillo ha governato quattro anni e mezzo con Melucci con suoi rappresentanti e in giunta e nelle società partecipate. Oltre alla pavimentazione completamente rotta, divelta, ma tutto intorno c'è un quadro penoso, un quadro pietoso che in altre parti d'Italia non esiste. E per completare il quadro del degrado, ecco qui accanto ad una fontanella, il tombino completamente inesistente, non c'è più, c'è un vuoto. Questo proprio la dice lunga sullo Stato di abbandono. In tante città italiane le fontanine sono così caratteristiche, hanno un loro perché, hanno un senso di storia. Qui purtroppo hanno un senso di abbandono. Che sfortuna che hanno i tarantini ad aver avuto varie amministrazioni che hanno ingannato la cittadinanza a partire dalla Di Bello, al fumo negli occhi gettato dalla Di Bello, per proseguire poi con il nulla cosmico di Stefano e con gli inganni di Melucci. Melucci l'ingannatore di semine, fasulle e finte di rinascite. Pensate, qui i bambini dovrebbero giocare felici in questo spiazzo, tirare due calci al pallone, così vivere la loro vita, vivere gli anni della loro infanzia e invece si ritrovano in situazioni pericolosissime proprio dal punto di vista igienico-sanitario perché, lo avete visto, la presenza di ratti comporta grossi rischi. C'è un'altra Taranto, una Taranto che voglio ridisegnare insieme a voi attraverso un centro storico che deve essere riqualificato, ma nel suo insieme con un progetto unitario attraverso specialisti. È un progetto unitario che abbia un suo, abbia un suo, abbia una sua identità, abbia un suo filo continuo, per così dire, non quegli interventi a macchia di leopardo, a tamponare le varie emergenze e quindi un borgo antico che non è mai stato riqualificato ma che ha ricevuto appunto degli interventi tampone. Penso al borgo antico di Ortigia, per esempio, che è il borgo antico di Siracusa, è una realtà molto simile alla nostra perché anche lì quella è un'isola, l'isola di Ortigia, come appunto la nostra isola della città vecchia. Guardando queste immagini da un lato provo sconforto e rabbia, dall'altro provo la forza, l'entusiasmo di disegnare insieme a voi una realtà diversa. Proprio per questo mi sono candidato sindaco. 21 anni di battaglie giornalistiche, le suole delle mie scarpe consumate qui in città vecchia a denunciare tante situazioni di degrado. Voglio farlo da sindaco, con il vostro affetto e con il vostro consenso.